Una bella giornata per il mondo del lavoro nella provincia di Caserta per sei lavoratori dell'Alto Casertano, ai quali a giorni si apriranno le porte di un'azienda nell'ambito di un progetto finanziato dalla regione Campania, Garanzia Over, il centro per l'impiego di Piedimonte Matese e la Comint, affermata azienda di Alife, che produce sonte per airbag e altri numerosi pezzi elettronici per le auto Fiat. Alla firma della convenzione avvenuta presso l'azienda Matesina erano presenti sei lavoratori prossimi all'inserimento, la direttrice dell'ufficio del centro per l'impiego di Piedimonte Matese e Rosa Italiano, l'imprenditore e titolare della Comint, Fernando De Felice, e l'assessore al lavoro e alle risorse umane della regione Campania, Sonia Palmeri, che abbiamo sentito a margine dell'incontro per capirne di più sul progetto e sul futuro di questi lavoratori. Allora, assessore, stamattina credo sia una bella giornata per l'Alto Casertano, parliamo di lavoro, un mondo molto difficile. Beh sì, stamattina è iniziata proprio bene questa giornata, nel senso che abbiamo fatto veramente un grande applauso alla Comint, la Comint che con la sua realtà, una bella azienda con parecchi dipendenti e grazie anche al centro per l'impiego di Piedimonte Matese ha iniziato a dare una possibilità con sei lavoratori che hanno aderito a garanzia over, quindi la misura, una delle ultime misure della nostra giunta, sei mesi ad 800 euro al mese garantiti dalla regione Campania e loro continuano a dimmettersi nel mercato dei lavori e soprattutto nei processi produttivi. A livello regionale che altri progetti sono all'orizzonte? Parliamo ovviamente sempre nell'ambito del lavoro. Beh sicuramente le misure sono tante, ci sono misure per i giorni, ci sono misure per coloro che sono usciti dai processi produttivi, sono stati espulsi perché le aziende hanno chiuso, ci sono dei progetti per i lavoratori svantaggiati, le misure sono veramente tante, abbiamo messo sul tavolo quasi 400 milioni di euro, 200 per garanzia giovani e altri 200 divisi in 8 misure, ognuno alla propria. C'è anche una misura particolare per la pubblica amministrazione che può accogliere i lavoratori di pubblica utilità, basta presentare un progetto alla regione Campania per sistemazione del verde, per tinteggiatura del pubblico, quindi voglio dire veramente c'è molto da approfittare oggi, ci sono le misure, ci sono le risorse, c'è un'amministrazione che guarda attenta alle esigenze dei territori. Ecco il futuro di questi sei lavoratori. Il futuro innanzitutto tre donne, tre uomini di mezza età che oggi ricominciano di nuovo a sedersi ad una postazione di lavoro, pensavano magari di essere oramai spacciati ad un futuro voglio dire tra le mura domestiche o comunque a cercare lavoro ed invece nella loro realtà perché sono tutti vicini qui a Piedimonte ad Alife inizieranno il lavoro, gli sarà loro affidato una giornata lavorativa e questa per sei mesi. Al termine, se l'imprenditore li vorrà assumere come già fatto per ben cinque lavoratori di garanzia giovani, al termine lui avrà la possibilità di assumerli con un'altra misura che si chiama Ricollocami, che dà una tantum 7 mila euro al lavoratore, sommato addirittura alla decontribuzione, insomma questi lavoratori avranno un futuro felice sapendo di avere un costo del lavoro più basso.